Due liste con un totale di 22 candidati per il rinnovo dell'ordine degli avvocati di Vallo della Lucania. A mezzogiorno di sabato, termine ultimo per la presentazione delle liste, oltre a quella del presidente uscente Francesco Bellucci, è stata ufficializzata la presentazione della lista capeggiata dall'avvocato Domenico Lentini. Un colpo di scena dunque rispetto alle ultime elezioni che si sono svolte nel 2012, quando c'era solo la lista di Bellucci. Si voterà a fine mese, alle urne saranno chiamati gli oltre 700 iscritti all'ordine forense di Vallo. La presentazione della seconda lista, rinnovamento possibile, era nell'area da qualche settimana, ma è rimasta nel cassetto fino a sabato mattina, quando, sciogliendo ogni dubbio, è stata ufficialmente presentata dall'avvocato Floriana Sansone. Questi gli avvocati candidati, Maria Cammarano, Maria Odilia Di Paola, Luisa Feola, Laura Inverso, Graziano Barbato, Domenico Del Gaudio, Giacomissario del Corisa 4, Gerardo Gammardella, Antonio Gozza, Domenico Lentini, Livio Matarazzo e Marco Sansone. Nella lista impegno e coerenza con il presidente uscente Francesco Bellucci, sono invece candidati Michele Barbato, Domenico Antonio D'Alessandro, Pietro Di Lorenzo, Gaetano Di Vietri, Angela Guariglia, Paola Maio, Vincenzo Migliorino, Antonio Midite, Celestino Sansone e Maria Sorrentino. La nuova legge prevede che fino a mille iscritti all'ordine forense siano eletti 11 consiglieri, tre in meno dunque rispetto all'attuale consiglio. Per Bellucci è la terza candidatura, ha ricoperto l'importante incarico negli ultimi sette anni, la prima elezione nel 2008, poi la riconferma nel 2010, e il pieno appoggio ricevuto anche nel 2012. La sua lista ora dovrà contendersi la vittoria con altri 11 candidati. Le operazioni di voto si svolgeranno nei giorni 28, 29 e 30 gennaio, dalle 9 alle 13, all'interno dell'Aula Sofia del Tribunale di Vallo. Ultimate le operazioni di voto si procederà allo scrutinio delle schede e dunque alla proclamazione degli eletti. Negli ultimi anni l'ordine forense si è impegnato per la sopravvivenza e l'ampliamento del Tribunale di Vallo. A riguardo ha inoltrato ai massimi rappresentanti istituzionali, dal Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio dei Ministri, l'indagine sociologica del Professor Antonio Conte, in cui si dimostra che la presenza del Tribunale ha portato notevoli benefici al territorio occidentano.